forme geometriche composizioni di più opere opere che possono stare insieme una all'altra oppure opere come questa che hanno la loro precipua singolarità materiali importanti la ricerca dei materiali quest'opera è realizzata in pietra lavica stiamo parlando di gianni serra questo artista diplomato all'accademia di belle arti che da sempre ha sviluppato dei percorsi intorno ai materiali intorno alla materia intorno alle forme geometriche ma in queste opere che sta realizzando una serie di opere realizzate appunto in pietra lavica vuole rapportarsi l'artista è di siracusa con la sua terra natale con questi elementi della natura che sono così in grado ancora oggi di sovrastare l'umano per quanto noi come umani vogliamo cercare di essere superiori alla natura è sempre la natura che vince è questo che ci dice gianni serra con quest'opera gianni serra anche lui sarà all'asta di prince art galleri casa d'aste battuto